Io mi chiamo Cressa Rossano, sono arrabbiato con la Germini e con tutto il governo, perché stanno tagliando i posti di lavoro che noi ci abbiamo sudato dopo tanti anni che andiamo in giro per la Sardegna in tutti i paesi, parandoci gli affitti, i doppi affitti, facendo anche le fame e facendo sacrifici andando da tutte le parti della Sardegna e adesso ci troviamo senza posto di lavoro. Io a 51 anni dove vado, chi mi prende a lavorare? Io voglio il mio posto, come tutti noi vogliamo il nostro posto, che ce lo siamo sudati. Io a scuola ho sempre lavorato, mi sono sempre comportato bene come tutti gli altri comuni, abbiamo pulito, abbiamo fatto cose, mansioni che non ci aspettavano, fotocoppie che non ci aspettano, che ci dicono che ci danno l'incentivo e poi non ci danno niente. Devono fare come fanno in Francia, gli anziani che sono già sessantenni a pensione e i posti li devono rintegrare con noi, bloccheremo tutte le scuole, faremo quello che ci sarà da fare, non ce ne frega niente, anche se ci mettono in galera, almeno ci danno a mangiare e a dormire. Grazie. Grazie. Grazie.